Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana. Oggi voglio invitarvi a riflettere, a meditare quanto è grande la bontà del Signore e lo facciamo attraverso il Salmo 30 che così ci invita a pregare, a sperare, a credere. Quanto è grande la Tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi se ne rifugia. E poi, guardate quest'altro versetto. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla Tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera. Quando a Te gridavo aiuto, che bello! Che bello sapere che il Signore ci tiene nel Suo cuore. Che bello sapere che noi siamo nei pensieri di Dio. Che bello sapere che il Signore veia sempre su di noi. Che bello sapere che il Signore ci ama e non ci abbandona. Questo non significa che non sperimentiamo la prova, che non sperimentiamo la sofferenza, che non sperimentiamo l'afflizione. Però, ecco, in tutto questo, in tutto questo, dobbiamo sempre sapere e ricordarci che noi siamo figli di Dio e siamo tra le sue braccia. A nessuno piace la sofferenza, no? A nessuno piace affrontare dei problemi. A nessuno piace la malattia. Ma sapete come io considero la sofferenza e come ho imparato a viverla? Come qualcosa che mi rende privilegiato agli occhi di Dio. Come qualcosa che mi avvicina sempre di più al crocefisso. Cosa noi possiamo fare per il Signore se non offrire queste sofferenze? Cosa possiamo fare per il Signore se non amarlo? E cosa ci può fare somigliare al Signore, alla sua santità, se non le sofferenze che viviamo? Perché in tutto, in tutto, nella mente, nelle parole, nelle azioni, siamo creature fragili e siamo peccatori. Invece la sofferenza ci avvicina al crocifisso. E allora diciamo a Gesù crocifisso, Signore ti amo, Signore ti offro, Signore permettimi indegnamente di condividere con te questa minuscola spina che io vivo oggi perché voglio dirti con questa sofferenza che tu sei la mia vita, che tu sei il mio amore, che tu sei la mia parte di eredità, sei il mio calice, sei la mia gioia, sei la mia salvezza, sei il mio tutto. E, Signore, io lo confesso, lo confesso davanti a tutti che senza di te io sono la nullità. Grazie, Signore, perché tu mi usi amore e misericordia. E da oggi voglio essere con te, uno che ama e vive nella tua amicizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Voglio darvi un appuntamento. Questa sera, alle 20.30, io sono al Teatro Comunale di Catanzaro, quindi quelli di Catanzaro possono venire a ingresso libero e ci sarà una sorta di Maurizio Costanzo, ecco, tra virgolette, dove parleremo di tante tematiche e condividerò la pagina di Catanzaro Informa sulla mia pagina Facebook, così potete seguire. Intanto, un bacio a tutti e vi voglio bene.